Oggi parliamo di vishing, eh sì, proseguiamo nel nostro catalogo delle truffe che mettono a rischio il patrimonio dei consumatori, parlando della voce. Abbiamo spesso raccontato come la voce sia il trend di questi anni, si sviluppano podcast, piattaforme vocali, ma attraverso la voce arrivano al nostro orecchio anche alcune truffe. Oggi è il turno del vishing. Eh sì, in altri video vi ho raccontato del tradizionale schema truffaldino del fishing, proprio dall'inglese pescare, perché è un modo per recuperare i dati del consumatore attraverso email che sembrano in tutto e per tutto simili a quelle di un nostro fornitore, che ci chiede i nostri dati, le nostre credenziali di accesso. Ma abbiamo parlato anche dello smishing, cioè del fishing che avviene attraverso normalissimi sms o messaggi whatsapp. Oggi è il turno del vishing con la V di voice. Ed infatti si tratta di truffe che arrivano al consumatore proprio attraverso un contatto vocale, che si realizza generalmente attraverso il telefono. Questo perché, come abbiamo già detto in passato, il nostro smartphone è uno strumento molto familiare che ci ispira fiducia, per cui generalmente le comunicazioni che arrivano tramite sms o tramite telefonata sul nostro telefonino sono considerate erroneamente più affidabili rispetto ad una email che magari arriva da un indirizzo che non conosciamo. Ed allora che cosa accade attraverso il telefono? Riceviamo una telefonata che può essere di due tipi. O automatizzata, con il classico disco che sembra davvero quello, ad esempio, della nostra banca. Oppure si tratta di una telefonata con un operatore in carne ed ossa che ci avverte che il nostro conto è sotto attacco. La nostra carta di credito è stata clonata, oppure lo stesso conto corrente è oggetto di un attacco di cybercriminali. Il truffatore sa già alcune informazioni che ci riguardano e la domanda che spesso i cittadini ci fanno è ma come faceva a sapere il mio nome e cognome? Come faceva a sapere qual è il mio istituto di credito? Queste sono informazioni reperibili in modo molto facile, ad esempio attraverso la navigazione sui nostri profili social oppure molto più semplicemente accedendo nel nostro androne condominiale dove è possibile reperire una busta da lettera inviata dalla banca e indirizzata proprio a quel consumatore. Per cui proprio grazie a queste informazioni di base il criminale in qualche modo si guadagna la fiducia del malcapitato. Non dimentichiamo poi che altre informazioni decisamente più raffinate sono reperibili sul dark web quelle banche dati dove vanno a finire i dati sottratti ai consumatori in modo massivo ogni tanto leggiamo di furti di dati, di data breach rispetto a grandi compagnie e quindi forse persino il numero della mia carta di credito può essere nelle mani di questi malfattori. A quel punto l'interlocutore al telefono fingendosi il direttore della nostra banca o un addetto del sistema antifrode dell'istituto di credito cosa fa? Ci chiede altri dati, quelli necessari per attivare ad esempio un bonifico in particolare l'OTP cioè quella password temporanea che serve proprio per la disposizione di bonifico oppure quel numero di tre cifre che si trova sul retro della nostra carta di credito. Qualche consumatore purtroppo in perfetta buona fede consegna questi dati così preziosi al telefono. Con ciò sembrerebbe essersi messo nella condizione di essere indifendibile proprio perché quei dati, lo ricordano spesso le guide distribuite dalle banche non devono per nessun motivo essere forniti a terzi. Ma torno a parlarvi di questa situazione perché recentemente l'arbitro bancario e finanziario cioè quell'ente, quell'istituzione preposta proprio alla risoluzione delle controversie tra consumatori e banche è tornata sull'argomento. In qualche modo un po' revisionando un suo precedente orientamento nel quale in qualche modo si addossava al consumatore la responsabilità di eventuali sottrazioni dal proprio conto corrente in tutti quei casi in cui il consumatore stesso era stato un po' superficiale nei suoi comportamenti. Ebbene il caso è esattamente quello che vi ho descritto una telefonata di vishing, il consumatore viene indotto a comunicare il proprio codice OTP cioè la password temporanea, proprio quella che viene visualizzata per pochi secondi e per consentire di autorizzare un pagamento. Ebbene in questo caso la banca si era difesa proprio sostenendo di aver indicato chiaramente sul proprio sito tutta una serie di consigli di autodifesa per il consumatore ed in particolare aveva espressamente spiegato proprio questa casistica dicendo che nessuno vi chiederà mai da parte della banca in modo ufficiale la comunicazione della password temporanea per i bonifici per via telefonica. E perciò solo la banca pensava di aver fatto tutto il necessario per dimostrarsi diligente e quindi per addossare la responsabilità di eventuali truffe al consumatore. Ebbene l'arbitro bancario e finanziario proprio su questo punto decide di condannare la banca a rimborsare l'importo indebitamente sottratto al consumatore sostenendo che non è sufficiente il codice OTP cioè questo token temporaneo per autorizzare un pagamento ma che l'istituto di credito in forza delle normative comunitarie avrete sentito parlare dell'APSD2 di questa direttiva deve autenticare in modo più stringente l'operazione così da essere certa che sia effettivamente fatta da un consumatore. Si tratta di un provvedimento che come dicevo in qualche modo riallinea la giurisprudenza dell'arbitro bancario e finanziario ad una maggiore tutela dei consumatori ma vi posso rassicurare sul fatto che al nostro sportello bancario sul sito consumatori.it riceviamo ogni mese davvero decine, centinaia di reclami che hanno a che fare con fenomeni di phishing, di smishing, di sottrazione in danno del consumatore di importi anche considerevoli da parte di cybercriminali. Quindi l'invito in conclusione che vi rivolgo è proprio quello di contattarci per verificare se il vostro caso è un caso nel quale la banca o l'istituto emittente della carta di credito sono tenuti a rimborsarvi. Vi assicuro che non immaginate che sono molto più frequenti i casi nei quali questi operatori finanziari sono tenuti a rimborsare i consumatori di quelli nei quali viene chiusa la porta al rimborso del consumatore. Questo perché generalmente come utenti siamo soliti incolparci di essere stati un po' trascurati, di essere caduti nella trappola di un truffatore. Ma come dico sempre, dall'altra parte abbiamo davvero dei criminali professionisti per cui fare degli errori è del tutto scusabile. Rivolgetevi a consumatori.it per capire se anche nel vostro caso è possibile ottenere un rimborso. A me non resta che darvi appuntamento al prossimo video chiedendovi se volete di condividere questi contenuti se ritenete che siano stati utili. Ciao, alla prossima! Ah, un'ultima cosa, sono sempre io Massimiliano Dona. Se guardando uno dei nostri video hai pensato ho bisogno di aiuto? Beh, proprio per questo ci sono gli esperti di consumatori.it Ogni anno risolviamo migliaia di casi e se tu non vuoi occupartene, nessun problema pensiamo a tutto noi. Scopri di più su consumatori.it e seguici anche sui social. Alla prossima!